Non solo la vita nei mondi della percezione. Cerchio medianico K attraverso Marco, insegnamento esoterico, a cura di VB, Aleph. Il testo del fotogramma chiamato Archetipo è quel quid che dà agli individui, ai cosmi, ai cicli generatori, una densità costante ed immutabile. Questo è il testo fotogrammico. Il testo archetipale è invece il quid che dà il senso di percorrenza ai karma, intendendo però per karma non solo la vita nei mondi della percezione, che è quella del piano fisico, astrale e mentale, ma anche la vita dei piani acasico, Aleph e primi aspetti del piano tau, perché già nell'archetipo generale non si può più parlare di karma. Quindi karma in senso ampio, in senso traslato, non inteso in base alla vita dell'individuo percipiente, ma in base alla vita dell'individuo assoluto. Grazie. 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 Grazie.